C'hanno preso di viva! Abbiamo fatto il solletico! Ricaricando! C'hanno visto! Un altro colpo così e li finiamo! Agganciato! C'hanno trovato! Versaglio agganciato! Il cannone funziona! Malmirino è disassato! Attenzione qui! Il nemico alla nostra posizione! Siamo stati avvistati! Attenzione a questa zona! Ricaricato! Ricaricato! Ci hanno trovato! Siamo stati avvistati! Siamo stati avvistati! Obiettivo sbloccato! Obiettivo sbloccato! Cannone carico! Siamo stati avvistati! Ci hanno trovato! Pronto a far fuoco! Versaglio lasciato! Siamo stati avvistati! Missione compiuta!